Approfitto della presenza di Claudio Vallone, che è il nostro webmaster, con il quale abbiamo dato vita da ieri a una nuova piattaforma, che si chiama Xinshu Academy, dove ci saranno i filmati sia del Qigong e anche di venti anni di insegnamento del maestro Yuan in Roma. Where we are going to put all the movies, all the videos that we've been doing in these 20 years teachings from Master Jeffrey Yuan. Jeffrey sta dicendo che secondo lui è più di vent'anni. 22. 22 years, actually. Leonardo Gensini che ci ha seguito in tutti questi anni, per cui abbiamo tutte le riprese di tutti gli insegnamenti, sia dei classici, che appunto noi insegniamo la scuola su cui fondiamo l'insegnamento. So, thanks also to Leonardo that has been filming and cutting all these videos for us in these 22 years. We are going to put them all on this platform, including the teachings on the classics that are the basis of our school, and we really must thank from our hearts, Master Jeffrey Yuan. And we are also going to put all the Qigong exercises over there, so for the people that had already bought the Vimeo code, and since we have closed Vimeo, you can go to Laura and she will give you the new code to get into this new platform. Chiederei brevemente due minuti a Claudio di presentare come è fatta, come è composta la piattaforma, perché è un po' complessa. So, I will ask Claudio now to briefly introduce this platform. Xinshu Academy nasce con un obiettivo molto preciso e molto semplice. This Xinshu Academy platform is born with a very definite and simple goal. che è quello di rendere più semplice agli utenti, non solo italiani, ma in tutto il mondo, l'accesso a questo patrimonio di conoscenze che sono state accumulate in questi 22 anni. Which is to facilitate the access, not just for the Italians, but to the whole world, to this treasure of teachings that we have accumulated in such a long time. La piattaforma è raggiungibile dall'indirizzo internet xinshuacademy.com e attraverso questo indirizzo troverete tutti i contenuti sia in italiano che in inglese. Questa è una delle grandi novità, diciamo, di questo progetto. This platform has an address which is xinshuacademy.com and you will find all the contents not just in italiano, but also in inglese, which is one of the new things about it. Per Xinshu si tratta un po' di un cambio di paradigma, cioè si tratta di andare un po' incontro alle tecnologie digitali e quindi di lasciare, se volete, sempre di più i supporti materiali come i DVD e di fare un salto verso il futuro. È un passaggio anche difficile per molti di noi, nel senso che si tratta di usufruire di questi corsi, di questi video, in una modalità nuova. Quindi bisogna mettersi un po' alla prova e cerchiamo anche di raccogliere il vostro feedback per cercare di migliorare questo progetto. Per alcuni di voi, questo potrebbe presentare alcune difficoltà, perché è una nuova modalità per cui puoi usare questi video, quindi dovete essere accettati con loro. E quindi tutto il vostro feedback è ben accetto e speriamo che sia un'opportunità per tutti quanti, soprattutto per gli utenti in giro per il mondo, oggi ci sono persone che vengono da fuori, insomma da altri paesi, speriamo che sia un'opportunità per tutti quanti per poter avere accesso sempre di più a queste informazioni. E infine vorrei ringraziare Rosa Brozzo che diciamo in questa iniziativa è stata un po' la mente e che è molto coraggiosa nell'investire su una cosa del genere, che è sicuramente impegnativa per Xinshu, ma speriamo che produca gli effetti che ci immaginiamo, ecco. E finalmente voglio ringraziare Rosa Brozzo che aveva questa idea, ma anche l'opportunità di investire risorse, che è difficile per Xinshu, ma speriamo che questo sia un passato molto utile e molto utile, e ovviamente grazie al Maestro Jeffrey Yuan, grazie a tutti. Grazie a tutti.